Io inizierei appunto a questo incontro con una sfida un po' perché gli argomenti di cui mi occupo io normalmente riguardano l'ambiente in generale, il paesaggio, i rifiuti e poi recentemente sono stata a Kiev e ho voluto inserire anche questo tema della guerra perché confrontare la bellezza con l'ambiente, col paesaggio risulta tutto sommato un esercizio interessante come abbiamo anche sentito nelle precedenti relazioni. Ma quando cominciamo appunto a parlare di rifiuti e di guerra il contrasto col tema della bellezza è secondo me profondo e anche diciamo difficile. La mia riflessione parte dal fatto che appunto noi ci dobbiamo confrontare assolutamente con queste tematiche che sono un po' l'emergenza di questo momento e anche di questo secolo insomma e sono l'emergenza climatica da un lato, la necessità di tutelare l'ambiente e quelle che sono le più grandi criticità che dobbiamo affrontare nella nostra vita e che recentemente sono anche emerse in modo molto significativo. Il tema dei rifiuti è sicuramente un tema molto grande già durante la conferenza di Rio de Janeiro nel 1992 si diceva se continueremo a produrre tanti rifiuti quanti ne stiamo producendo oggi ci vorranno due pianeti per smaltirli e quindi come si può parlare di bellezza in questa prospettiva di fronte poi alla guerra e al problema energetico che la guerra ha accoglito anche tutto questo diventa appunto dicevo una sfida molto difficile da affrontare. La prima considerazione che mi viene così spontanea è che ambiente è sicuramente bellezza. Ambiente è bellezza ma ambiente è anche quello appunto che si diceva durante la conferenza di Rio del 92 e cioè la sostenibilità della vita sulla terra allora si chiamava sviluppo sostenibile si diceva si parlava di sviluppo sostenibile oggi questo termine sviluppo io avrei diciamo qualche esiterei ad utilizzarlo in modo così diciamo definito deve essere tale si diceva ed erano un po' le conclusioni della conferenza di Rio a cui io ho partecipato allora con il Tribunale internazionale dell'ambiente diceva appunto che lo sviluppo sostenibile deve essere tale da soddisfare i bisogni del presente senza compromettere le possibilità delle generazioni future. Questo lo dicevamo nel 92. Noi nel 92 avevamo iniziato a inaugurare una prospettiva anche del diritto ambientale nel senso che ci eravamo resi conto che mentre i diritti sociali, i diritti civili, i diritti politici erano diritti tutto sommato quantomeno riconosciuti magari non realizzati ma riconosciuti emergeva un diritto di nuova generazione appunto detto di nuova generazione soprattutto da Bobbio che era appunto il diritto all'ambiente e dell'ambiente purtroppo questa prospettiva che si è colto essere essenziale già allora durante la conferenza di Rio del 92 poi nei fatti non ha trovato una rispondenza. Solo oggi ci rendiamo conto di fronte anche a movimenti di giovani come quelli di Fridays for Future di ultima generazione che questa frase era veramente significativa cioè noi non possiamo compromettere con le ferite che causiamo all'ambiente poi dopo io mostrerò appunto la bruttezza delle ferite che causiamo all'ambiente senza compromettere le possibilità delle generazioni future questa è la nostra responsabilità. Una responsabilità che guardando il grafico della crescita della CO2 a me mi responsabilizza molto perché purtroppo questo grafico ha un aumento esponenziale a partire dal 1980 quindi sono le nostre generazioni che nonostante anche il nostro sforzo e il nostro impegno non sono state assolutamente in grado di mantenere questo principio. In realtà questo principio aveva come obiettivo quello di tutelare gli ecosistemi, promuovere lo sviluppo socio-economico e mettere anche in campo nuovi sapere e nuove competenze. Naturalmente noi affrontavamo queste questioni appunto dell'affermarsi di una nuova prospettiva anche culturale e anche scientifica in un'ottica che partendo dalla comprensione del concetto di sostenibilità ambientale si sviluppava però a lunga scadenza diciamo con alcuni impegni concreti che dovevano essere anche poi tradotti dal punto di vista delle norme, in norme e che riguardavano appunto la riduzione dell'impatto ambientale, la tutela del paesaggio, la tutela degli ecosistemi la capacità di inaugurare nuovi stili di vita, la valutazione del danno ambientale e sanitario. Questo ha creato anche delle risposte effettivamente che ci sono state perché nel nostro paese io mi sono riguardata i dati relativi agli anni 90 e relativi ad oggi ad esempio della rete che è stata creata, Rete Natura 2000 e anche ognuno di noi magari nella propria attività o amministrativa o comunque ha contribuito a creare e a tutelare delle porzioni diciamo di territorio cioè la Rete Natura è costituita da zone speciali di conservazione, da zone di protezione speciale da siti di interesse comunitario. Io ricordo nella mia prima esperienza amministrativa a Reggio quanto fu difficile riconoscere un'area anche piccola però importantissima perché c'era una risorgiva ed era un luogo veramente di grande interesse naturalistico pare in modo che quest'area fosse tutelata in modo da non essere poi violata col cemento, con altri interventi di altra natura. C'è una fatica immane per riconoscere un'area che in fondo era anche piccola. Eppure oggi queste ZPS comprono il 20% del territorio le regioni hanno indicato e sono stati riconosciuti 2360 siti di interesse comunitario e 639 zone di protezione speciale. Questo lo voglio dire perché il nostro paese un po' di passi li ha fatti in questa direzione ma tutto questo naturalmente non è assolutamente sufficiente. E queste azioni a cosa hanno portato? Hanno portato alla protezione di habitat. Ho confrontato appunto i dati che avevamo nel 90 con i dati di oggi. Diciamo che non sono aumentati di tanto però sono aumentati quindi 132 habitat oggi, 91 specie di flora, siamo passati da 80 a 91 120 specie di fauna per cui mammiferi, lettili, anfibi, pesci, invertebrati 385 specie di avifauna. Questo cosa ha significato? Ha significato appunto che un impegno forte è stato messo in questa direzione così come la copertura diciamo di parchi nazionali del circa 20% del nostro territorio nazionale e purtroppo però continuano quelle cause che sono minacce legate all'attività appunto dell'antropocene, dell'uomo insomma comunque e che sono soprattutto in certe aree del nostro territorio i disboscamenti, la caccia e soprattutto gli inquinamenti. Le soluzioni le abbiamo il problema è che dobbiamo metterlo in pratica solo che la differenza tra gli anni 90 e quando siamo andati appunto nel 92 alla conferenza di Rio o nel 2002 alla conferenza di Johannesburg è che il cambiamento climatico ci impone di raggiungere degli obiettivi molto rigorosi ormai entro il 2050, addirittura entro il 2030, entro il 2050 alla neutralità appunto carbonica. Allora tutto questo cosa significa? Significa che cambia il nostro modo di agire, deve cambiare il nostro modo di agire, quelle che erano azioni che noi facevamo appunto un po' a lungo termine creando piano piano una porzione di territorio tutelato, appunto la tutela di specie in estinzione oggi diventa una necessità sempre più forte e dicevo nonostante questo noi abbiamo 2 milioni di ettari che sono pari al 5% del territorio nazionale, 1 milione di ettari di riserve regionali, 25 parchi nazionali, 871 aree protette, 28 aree marine protette, 146 riserve protette, 141 parchi regionali poi questi dati cambiano un po' però insomma il dato ultimo sono questi 3 milioni di ettari e questo dicevo è significativo ma non è in questo momento assolutamente sufficiente non è sufficiente perché una delle minacce più significative che nascono dal cambiamento climatico sono proprio quelle legate alla perdita di biodiversità la perdita di biodiversità appunto già dalla conferenza di Rio era stata definita durante la convenzione sulla biodiversità e viene definita appunto come variabilità tra organismi viventi di qualsiasi tipo compresi tra gli altri quelli terrestri, marini e di altri ecosistemi acquatici e complessi ecologici dei quali questi sono parte, include la diversità tra l'altro all'interno delle specie tra le specie e degli ecosistemi, è la vita sulla terra però dicevo durante la conferenza di Rio già sull'ambiente nel 1992 si aprì questa firma io mi ricordo noi ovviamente seguivamo solo la società civile poi c'erano alcuni di noi invece che partecipavano agli incontri governativi e ogni sera ci venivano appunto a relazionare su com'era lo stato appunto della firma di queste convenzioni che per noi sembravano una grande rivoluzione e quindi il risultato di un lungo processo di ricerca e anche soprattutto con diversi stati che naturalmente non volevano mettere in discussione la propria attività soprattutto riguardante le foreste e la tutela delle foreste diceva un lungo processo di ricerca e di negoziazione internazionale e le principali strategie che erano state individuate scusate, mi sono dimenticata di mettere il telefono silenzioso lo faccio subito dicevo che una delle caratteristiche fondamentali della strategia individuata appunto per la tutela della biodiversità era il concetto di uso sostenibile su cui oggi avrei anche qualche diciamo ancora dubbio perché appunto oggi abbiamo due grandi problemi che sono il cambiamento climatico e le conseguenze del cambiamento climatico e che soprattutto riguardano appunto le specie aliene invasive e quali sono appunto e quali erano allora le soluzioni quali sono anche oggi ma la domanda mia che pongo perché io voglio essere proprio interlocutore su questo discorso ma siamo ancora in tempo per fare tutto quello che ci eravamo diciamo impegnati a fare e allora il tema sono trovare appunto delle soluzioni soluzioni nelle politiche di settore agricoltura, pesca, gestione forestale, trasporti, pianificazione urbana, turismo ma i nostri rappresentanti nell'Unione Europea che ha un ruolo decisivo e nei nostri parlamenti sono all'altezza di queste grandi sfide questa è la mia domanda e naturalmente poi non c'è solo il mondo della politica mi sentite bene? mi sentite? sì sì benissimo ah perfetto no no perché mi era scomparso un po' dicevo questo approccio che riguarda la politica in primo luogo riguarda la politica perché le grandi scelte vanno fatte a livello politico perché se noi dobbiamo tutelare il nostro territorio è la politica che ha un ruolo decisivo perché la politica è il luogo dove si assumono le decisioni e le decisioni hanno una conseguenza concreta pratica nel momento in cui io decido di fare un'area SIC di proteggere un territorio nel momento in cui lo decido poi lo devo fare perché l'ho assunto come decisione è un ruolo centrale però è ovvio che ci sono anche altri mondi che possono contribuire e hanno anche contribuito in modo fondamentale allo sviluppo appunto di questa prospettiva per rispondere appunto ed essere all'altezza delle sfide ambientali e qui secondo me è fondamentale il mondo accademico che deve cercare appunto ancora di più di conoscere i meccanismi della biodiversità e dei servizi ecosistemici e individuare ed aiutare la politica coloro che assumono le decisioni a porre rimedio in modo però rapido perché il grosso problema che abbiamo noi oggi è la rapidità con cui dobbiamo assumere queste decisioni e naturalmente i temi sono tanti io ne tocco solo alcuni ma riguardano in primo luogo l'acqua come elemento essenziale per la sopravvivenza degli ecosistemi in questo momento di grande siccità capiamo che cosa significa appunto il problema dell'acqua e soprattutto di quei fenomeni che avevamo già individuato anche prima del 92 soprattutto il Club di Roma come diciamo limiti fondamentali che dovevano essere affrontati e riguardavano appunto la desertificazione ma anche gli sprechi le alterazioni della qualità naturale delle acque l'utilizzo di fertilizzanti pesticidi nelle pratiche agricole che ancora oggi vengono utilizzati in modo massiccio le soluzioni ci sono naturalmente riguardano anche un settore che è quello dell'informazione dell'educazione al cambiamento la capacità di mantenere l'integrità ambientale del territorio la capacità di costruire anche degli accordi internazionali che abbiano un significato perché oggi si apre un altro settore molto importante che io stamattina ne parlavo in una scuola quello con Calamai l'ambasciatore Calamai lo Schindler italiano di Buenos Aires il problema dei rifugiati ambientali perché questa situazione sta causando cioè non ci sono solo i rifugiati economici e i rifugiati politici oggi molti di coloro che scappano da questi territori e lo faranno sempre di più perché abbiamo delle stime fonte Norman Meyes ma anche altri che danno già delle stime spaventose sui rifugiati ambientali di fronte appunto alle siccità alle conseguenze del cambiamento climatico e allora ecco ci sono tanti temi che dovrebbero essere approfonditi in quest'ottica in questa prospettiva che riguardano appunto la biodiversità del mare riguardano gli effetti sui territori studiati e calati nei contesti territoriali dei cambiamenti climatici il problema dell'energia e del ciclo di gestione dei rifiuti il problema di questo sviluppo urbano che deve trovare un limite rispetto poi ai grandi problemi degli inquinamenti delle città di tutte le tipologie di inquinamento l'inquinamento fisico l'inquinamento chimico l'inquinamento elettromagnetico l'inquinamento biologico cioè ci sono tante tipologie appunto di inquinamento dell'aria purtroppo e in tutto questo si inserisce un'altra riflessione che a mio avviso non va mai dimenticata che naturalmente chi prospera e non ha nessuna intenzione di affrontare la sfida dei cambiamenti climatici sono le mafie e quindi la lotta alle eco-mafie a mio avviso è assolutamente fondamentale e quindi noi dovremmo appunto prestare grande attenzione a tutti i cicli che si prestano diciamo ad essere oggetto di attività illecite dal ciclo del cemento al ciclo dei rifiuti qui abbiamo degli esperti come Federico Valerio che conosce bene questi temi a poi al commercio illegale di specie di animali protetti al commercio di reperti insomma ci sono tanti ambiti che dovrebbero diciamo suscitare la nostra attenzione il paesaggio abbiamo detto è bellezza il paesaggio è bellezza e allora preparando questa questa questo incontro di oggi ho ritenuto opportuno diciamo proporvi anche una riflessione su quello che è stato un contenzioso proprio recentissimo che ha seguito in particolare diciamo Verdi Ambiente e Società e cioè il tema il rapporto tra il paesaggio e l'ambiente in questo giorno appunto il 25 ottobre è stato siglato appunto un documento da FAI Leggo Ambiente WWF che hanno avanzato 12 proposte per mettere insieme lo sviluppo delle infrastrutture per le energie rinnovabili e a tutela del paesaggio italiano questo documento si è posto per la prima volta in contrasto con invece le posizioni assunte da Italia Nostra che invece antepone la tutela del paesaggio a quella dell'ambiente e naturalmente anche dalle 16 associazioni ambientaliste culturali storiche che a giugno del 2021 hanno costituito la coalizione articolo 9 in difesa del paesaggio e della biodiversità è un documento questo che non è stato condiviso neppure da un gruppo di intervento giuridico che sono una serie di associazioni e da Tommaso Montanari oltre che dal sottosegretario all'ambiente cioè sottosegretario al Ministero della Cultura che è Sgarbi e qual è allora qual è la riflessione su cui secondo me è giusto interrogarsi poi ognuno darà la propria risposta però è questa relazione che c'è tra ambiente e paesaggio in geografia il paesaggio è quello che possiamo osservare che è visibile all'occhio umano le colline le vegetazioni i fiori naturalmente due esempi di paesaggi sono quelli appunto trasformati dall'uomo che sono quello rurale e quello urbano il paesaggio è comunque la veste dell'ambiente e l'obbligo della sua tutela è sancito fra i principi fondamentali della Costituzione all'articolo 9 che anche l'altro giorno la professoressa Battaglia ci ricordava come fondamentale e che è stato aggiunto solo l'8 febbraio 2022 in Costituzione devo dire che queste battaglie hanno la loro origine però e bisogna ricordarlo quando il magistrato di Cassazione Amedeo Postiglione istituì il Ministero dell'Ambiente e la prima legge che riconosceva appunto dicevo il diritto all'ambiente come un diritto fondamentale e quindi è un percorso molto lungo che viene da lontano e che ha avuto questo esito la tutela del paesaggio peraltro per l'Italia è sempre stato questo ce lo ricorda appunto anche Italia Nostra è sempre stato appunto assicurata addirittura già da prima del fascismo infatti è la legge 778 dell'11 giugno 1922 l'avvento del fascismo fu del 31 ottobre del 22 recitava per la tutela delle bellezze naturali e degli immobili di particolare appunto interesse storico e credo che quando sia stato fatto appunto quella quell'articolo della Costituzione che tutela le bellezze naturali e il paesaggio in fondo ci si portasse dietro appunto questa prospettiva e questa visione poi ci sono varie tipologie di paesaggio dal paesaggio naturale agrario al paesaggio agrario di valore al paesaggio agrario di continuità al paesaggio degli insediamenti urbani il paesaggio dei centri dei nuclei storici il paesaggio degli insediamenti in evoluzione il paesaggio dei parchi e delle ville storiche dei giardini storici che si occupa appunto di verde all'interno delle amministrazioni comunali sa che per ogni tipologia di paesaggio è necessario elaborare appunto un piano del verde che ha delle diciamo indicazioni di manutenzione di cura e anche a volte appunto di riqualificazione che sono molto diverse a seconda appunto della tipologia di paesaggio che si incontra io quando ero a Genova avevo realizzato i famosi diciamo nove piani di riqualificazione per i nove parchi storici con i progetti preliminari definitivi ed esecutivi per la riqualificazione dei parchi storici di Genova a partire dal parco di Villa Durazzo Pallavicini in parco scenografico ad altri parchi appunto sui quali avevamo fatto un grande intervento di riqualificazione che naturalmente esige una tipologia di approccio che è diverso rispetto a interventi appunto sul verde pubblico sul verde appunto di prossimità sul verde scolastico su tutte tipologie appunto di paesaggi molto diversi che però vanno studiati perché noi dobbiamo avere anche la capacità di conservare l'identità dei luoghi attraverso la tutela del paesaggio che è fondamentale per chi si occupa appunto tra l'altro anche di bellezza perché la bellezza nasce anche dalla capacità di restituire l'identità ai luoghi che spesso purtroppo per interventi dell'uomo la perdono in modo significativo e allora la proposta di queste tre associazioni era quella in sostanza di utilizzare terreni abbandonati dagli agricoltori perché improduttivi credo che in un incontro di equistituto abbiamo affrontato un po' anche questo tema ecco che cosa dicono invece Verdi Ambiente Società ed altre associazioni che nel mondo naturale non esistono terreni improduttivi se non secondo le logiche umane ogni suolo ha una sua funzione nell'equilibrio ecologico e in realtà questi terreni abbandonati hanno sono luoghi di fondamentale importanza appunto per la biodiversità e questo è un dibattito io vorrei solo rendere conto di quello che è il dibattito in corso è un dibattito importante perché è importante e allora il suolo non coltivato dicevo è un ecosistema complesso è importante da tutelare al pari del suolo produttivo ecco purtroppo le dichiarazioni dello stesso dirigente dell'ISPRA Michele Munafò ci ha comunicato che il PNRR il piano nazionale di ripresa e resilienza vuole distruggere 87.000 ettari di campagna come soluzione alternativa invece che a terra sarebbe preferibile installare appunto eventuali pannelli fotovoltaici quindi le fonti rinnovabili su edifici capannoni aree inutilizzate si eviterebbero i costi ambientali paesaggistici e di produzione appunto anche agricola persa e qui entra anche il tema che è oggetto di queste riflessioni cioè la bellezza come si garantisce la bellezza del paesaggio la bellezza del territorio questa è una cosa insomma pesante perché 87.000 ettari di campagne sono tante ecco quindi credo che questa dichiarazione pur comprendendo e anch'io sostenendo fortemente la necessità di introdurre degli elementi centrali che riguardano appunto la capacità di realizzare quanto più possibile fonti rinnovabili anche per raggiungere l'autosufficienza energetica però dobbiamo lo stesso appunto ascoltare questa riflessione anche perché a mio avviso ecco questa invece è l'altra posizione legambiente accusa le sovrintendenze frenano la transizione ecologica e c'è un dibattito in corso e credo che chi si occupa di bellezza un po' deve cercare forse di dare anche delle riflessioni delle linee guida su quali siano i percorsi da intraprendere per trovare un equilibrio tra queste due posizioni e parliamo tra l'altro di associazioni che sono serissime e che hanno contribuito credo a dare un grande un grande un importante appunto sono state importantissime appunto nella tutela dell'ambiente del nostro paese però qui si pone un problema che secondo me è serio ed è serio perché il PNRR prevedeva l'applicazione di questa direttiva che si chiama DNSH cioè non arrecare danno purtroppo a mio avviso però sarebbe ancora da approfondire da studiare gli impatti del PNRR e dei progetti che sono stati finanziati col PNRR oggi non li conosciamo ne conosciamo pochi insomma ma che effetti avranno appunto sulla bellezza sul territorio sui nostri luoghi sull'identità dei luoghi questi progetti che costituiscono appunto una grande sfida anche economica data l'entità appunto dei finanziamenti la mia è una domanda peraltro c'è stata comunque anche una risposta del Consiglio di Stato che rispetto ai terreni improduttivi ha detto che se l'area su cui ricade un progetto di impianto fotovoltaico in zona agricola non è vincolata il parirendo procedimentale espresso dalla sovrintendenza competente per territorio non può essere vincolante e quindi non può impedire la sua realizzazione quindi il Consiglio di Stato ha dato anche un orientamento la mia domanda è come possiamo tutelare la bellezza e allora che fare come ci ha ricordato la professoressa Luisella Battaglia nel nostro nel primo incontro di questo ciclo così interessante è che dobbiamo provare noi a salvare salvare noi la bellezza del mondo a me piace moltissimo mi è piaciuta moltissimo ho voluto mettere questa frase qui perché è veramente una riflessione fondamentale proviamo non so come faremo ma dobbiamo provare noi e allora se in principio era la bellezza e anche la meraviglia io purtroppo sono stata abituata per la mia esperienza diciamo di vita anche amministrativa a confrontarmi invece con i disastri cioè col brutto questo libro di Gian Paolo Schesaro avvocato dello Stato che io cito sempre perché secondo me va letto per chi si occupa di ambiente in Italia contiene un elenco di disastri che sono riconosciuti in sede giudiziaria quindi non parliamo di impressioni parliamo di un lavoro giudiziario anche se solo come ipotesi di accusa però importantissimo e che cosa sono questi luoghi l'elenco dei disastri io l'ho messo qua tutto adesso non mi ci soffermo non voglio ne elenco soltanto mi ci soffermo soltanto su alcuni penso appunto alla nube tossica di PharmaPlant penso all'acna di Cengio a questi a questi veleni nascosti che sono stati oggetto di una delle prime commissioni presieduta dal grande credo veramente ambientalista e scienziato Massimo Scalia che è stato parlamentare dei Verdi tra il 98 e il 2000 ha presieduto questa commissione di inchiesta sui rifiuti e dice che noi nel nostro lavoro accertammo che a pianura erano finiti sicuramente dei fanghi velenosi dell'acna di Cengio un quantitativo rilevante che purtroppo addirittura non riuscimmo appunto a definire con esattezza scrive lui perché buona parte della documentazione che riguardava i trasporti era andata distrutta era incomplida quei fanghi naturalmente sono ancora lì e se nessuno metterà mano continueranno ad avvelenare la terra e l'acqua che qui abbiamo apriamo un capitolo enorme che io diciamo non mi azzardo neppure ad affrontare che è quello del ruolo delle bonifiche in Italia chi sta facendo le bonifiche in Italia l'azienda appunto l'acna di Cengio Savona quindi parliamo di una azienda Ligure la devastazione del fiume Bormida e l'aspetto della sua valle sono veramente un'espressione di quella che è un nuovo reato che oggi ancora non è definito ma che è in fase di studio nel nostro libro due giuriste lo hanno affrontato nel nostro libro Spicolatrici d'Ambiente che è quello dell'Ecocidio un tema importantissimo gravissimo eppure ne scriveva già Beppe Fenoglio hai mai visto Bormida all'acqua color del sangue ragrumato che ti mette freddo nel midollo sulle sue rive non cresce più un filo d'erba ma purtroppo appunto soltanto quando ci fu l'emissione appunto di una nube di anidride solforosa ci si rese conto di che cos'erano appunto questi veleni e che l'acna andava chiusa e naturalmente doveva essere affrontato questo problema della montagna dei veleni ma parliamo ancora di perché non riesco ad andare più avanti qua ah ecco eh Arenzano chi è che non ricorda soprattutto chi è Ligure magari noi migliani meno ma l'Aven del 14 aprile 91 un gravissimo di disastro oppure la discarica di Pitelli anche qui parliamo di una situazione gravissima perché di fatto mh c'era questa emergenza e soprattutto ehm una commissione di inchiesta che si domandava appunto qual era il ruolo eh dei porti in questo traffico appunto anche illecito eh di eh rifiuti che poi sono stati sepolti eh come vedete appunto in questa discarica mh alla Spezia eh oppure parliamo del DDT nel lago a Pieve Vergonte parliamo di Porto Marghera lì l'Ecoistituto del Veneto l'ha affrontato tantissime volte questo tema della fuga di ammoniaca dallo stabilimento petrolchimico di Porto Marghera del 98 poi ancora 900 kg di eh ammoniaca nel 99 e poi 3000 kg di cloruro di vinile monobero dallo stabilimento petrolchimico di Porto Marghera nel 99 cioè questi sono fenomeni che eh quando parliamo di bellezza dobbiamo assolutamente considerare eh nella loro eh assoluta gravità eh oppure appunto a Falda a Tezze sul Brenta eh l'avvelenamento da Cromesa Valente eh dove tra l'altro eh ci fu quel famoso fenomeno per cui in realtà i primi colpiti erano stati i lavoratori che si erano ribellati eh a con delle azioni anche molto semplici ed erano stati subito eh condannati mentre assolti i responsabili appunto di questo disastro e lo dice un avvocato dello Stato cioè non è che lo dico io eh oppure gli eventi gravissimi che anche Genova ha ben conosciuto che riguardano appunto frane alluvioni eh in questo caso la frana di Sarno oppure appunto l'occultamento di due milioni di tonnellate di rifiuti tossici poi noi oggi non conosciamo ancora perché noi sappiamo quant'è la produzione di rifiuti urbani eh all'incirca intorno ai 30-35 milioni di tonnellate di 35 milioni sì di tonnellate mentre sappiamo che la produzione di rifiuti ehm eh industriali è molto più ampia ma non sappiamo appunto che fine fanno eh questi rifiuti e questo è il grande tema anche che deve essere a mio avviso eh affrontato in modo forse più serio ma noi ci siamo occupati sempre di rifiuti urbani non ci occupiamo appunto di questa tipologia di rifiuti eh che sono spesso oggetto di traffico illecito eh per non parlare dell'inquinamento dei fiumi del fiume Lambro per non parlare del petrolchimico di Priolo e dell'incendio di Priolo e questa immagine io la metto sempre perché è lì che vanno a finire i nostri eh rifiuti eh elettrici ed elettronici cioè i nostri cellulari i nostri quando finiscono eh appunto la loro vita e io racconto sempre che quando ero a Roma siccome scoppiavano sempre degli incendi dove c'erano gli autodemolitori soprattutto in alcune zone della città vi ha togliato eccetera e purtroppo eh una volta ci fu un incendio molto grosso il comandante dei vigili mi chiamò per dire venga venga a vedere quello che sta succedendo noi eravamo naturalmente molto preoccupati per le missioni ma la cosa sconvolgente è che dietro a queste macchine che scoppiavano e saltavano operare che sembrava di essere in Vietnam eh in realtà c'era un deposito di materiali appunto frigoriferi ehm RAI insomma di rifiuti elettrici ed elettronici che naturalmente erano lì pronti per prendere la strada delle discariche illegali dell'Africa dell'Asia dell'Asia dove bambini vengono sottoposti a delle attività incredibili per poter estrarre appunto i materiali cosiddetti preziosi e allora anche lì eh noi produciamo mi sembra intorno ai 12 kg abitante anno di rifiuti elettrici ed elettronici ma la via della legalità c'è solo per circa 4 kg e gli altri dove vanno a finire e per questo è importante nelle nostre città promuovere la raccolta differenziata favorire lo sviluppo anche di un'economia circolare che vada a trattare in modo serio questi materiali che come ha sempre ricordato Federico Valerio sono materiali post consumo sono basati questo principio dell'economia circolare si basa su un principio fondamentale che è quello del recupero di materia salverà l'economia circolare il mondo e salverà la bellezza non lo so però certamente noi dobbiamo occuparci anche di questo e poi ho voluto inserire questo tema della guerra perché appunto io sono stata invitata quest'estate nel periodo di luglio a partecipare a un viaggio in Ucraina con il movimento europeo di azione non violenta e così mi ha molto colpito appunto il rapporto tra la bellezza dei luoghi e la drammaticità della situazione questo soldato che girava abbiamo a un certo punto fotografato perché c'era questo soldato che si stava muovendo appunto con una rosa in mano che per noi era veramente un po' una specie di contraddizione tra l'altro se c'è un luogo dove veramente si può celebrare la bellezza è l'Ucraina questa è una foto che ho fatto io proprio sotto il cielo dell'Ucraina e di Chievo un cielo bellissimo però i luoghi della guerra sono luoghi tragici dove appunto noi abbiamo attraversato a piedi la frontiera tra la Polonia e l'Ucraina e mentre noi entravamo uscivano appunto queste persone diciamo disperate alla ricerca di salvezza dall'ansia della guerra perché anche noi pur stando pochi giorni abbiamo capito che cosa significa vivere tutte le notti dovendo a un certo punto alle due alzarti per andare nel rifugio perché non riesci più a dormire una vita veramente scandita dalle bombe è una vita terribile gravissima così come i segni a fronte di una bellezza del territorio i sentieri sono sentieri di guerra cararmati bruciati le strade che naturalmente hanno queste caratteristiche quando vai devi sempre appunto attraversare questi punti che sono poi punti di difesa e qui ho voluto proprio mettere queste due foto perché è la stessa piazza e a me colpì molto quel pomeriggio sera perché ormai era sera ma insomma il tempo non era molto bello quasi pioveva ma da un lato mi voltavo e vedevo la bellezza di questa piazza che potete anche voi vedere che è una delle piazze tra le tante piazze belle di Kiev e dall'altro i cararmati bruciati peraltro attraversati dal nostro compagno di viaggio fra fedeli di scampia e così mi colpisce questa relazione tra la bellezza e la guerra e come dovremmo fare per risolvere anche questi gravi problemi i segni della città i segni della guerra sono i segni da un lato appunto che si incontrano tutti i giorni quando cammini anche nella normalità della guerra e dall'altro sono i segni del grande desiderio di indipendenza perché in fondo il sogno di questi giovani che anche noi abbiamo incontrato è un sogno di essere Europa loro sono vissuti dopo il crollo sono nati soprattutto i giovani dopo il crollo dell'unione sovietica e per loro quel mondo non esiste loro vorrebbero appunto la libertà di viaggiare la libertà di studiare la libertà di vivere insomma questo ci hanno raccontato io trasmetto solo quello che ho recepito e così abbiamo incontrato tante persone appunto a Kiev e questo è un medico che pur avendo come vedete le mani così con delle protesi però continua a fare il medico soprattutto nelle zone appunto di frontiera per salvare delle persone che è veramente credo abbiamo incontrato una persona straordinaria e questo è un tramonto di guerra con una bellezza che è quasi veramente commovente sconvolgente eppure è la guerra che si ripete quindi forse qualche riflessione dovremmo farla quando si rientra da Kiev e si ritorna in Polonia a Cracovia allora abbiamo voluto anche fare qualche sosta per riflettere su quello che è successo appunto nella Polonia in Polonia siamo andati nella fabbrica di Schindler per vedere per vedere così anche un ricordo di come la guerra si presenta nei secoli anche diversi sotto forme diverse ma contiene in sé tutta la sua tragicità e questa riflessione che chi salva una vita salva il mondo è forse quello che può salvare anche noi nel senso che in fondo anche noi potremo fare pochissimo però forse facendo quel poco che riusciamo a fare magari riusciamo davvero a proiettarci nella direzione appunto di provare a salvare questo questo nostro amato il mondo e che fare per il futuro ma io dico sempre ci sono anche delle azioni molto concrete che si possono fare a Roma avevamo fatto questi bellissimi progetti che io ho fatto anche a Reggio ma penso anche un po' ne abbiamo fatti anche a Genova anzi a Genova abbiamo fatto un grande lavoro sul piano di riduzione della produzione dei rifiuti che secondo me è ancora lì nel cassetto merito di Giovanna Sartori di Mario Santi di persone che hanno lavorato tantissimo per questo piano di riduzione con una serie di azioni molto concrete che chiunque può fare e può contribuire a realizzare davvero l'economia circolare dicevo ambiente bellezza e pace sono elementi fondamentali quindi questo nostro progetto mille giardini per le mille scuole pubbliche di Roma un progetto che ha avuto molto successo e così anche il piantare alberi anche se a Roma piantare alberi è difficilissimo mentre a Reggio ne abbiamo piantati più di centomila a Roma piantare un albero significava avere con sé un archeologo della sovrintendenza che dopo aver fatto il buco ti diceva se lo potevi piantare o meno quindi naturalmente va molto rallentato cioè è molto rallentato questo processo e così il forte impegno appunto per la pace e io vorrei chiudere riportando le parole che mi sono piaciute tantissimo della relazione della professoressa Battaglia che sono le parole della bellezza che dovrebbe essere una specie di non lo so un riferimento con cui noi ci dobbiamo confrontare cioè questa rispetto ammiranti ci richiamava questi temi amicizia con la natura tra le persone sintonia con la natura rinaturalizzazione abbellire la terra senza tradirla la felicità della natura noi dobbiamo evadere da un mondo che riflette la nostra immagine questa visione appunto che emette al centro l'uomo e non invece la dimensione appunto della vita e io mi fermo qua grazie Penuccia puoi alzare un po' la voce perché io sento pochissimo no io ho detto semplicemente grazie Penuccia e vediamo se ci sono delle domande certo grazie una cosa che mi ha colpito se non c'è mentre si prenota qualcuno è quel tuo interrogativo su essere all'altezza delle sfide ambientali e secondo me la nostra classe dirigente i nostri rappresentanti non sono tanto all'altezza mi è capitato io tengo un po' d'occhio alla questione nucleare e sento parlare del nucleare come di una possibilità che non dobbiamo assolutamente farci sfuggire e cose di questo tipo no? ieri ho sentito dire le centrali di quarta generazione sono solo un transitorio per aspettando la fusione nucleare che per me che sono un fisico di formazione è una bestialità terribile no? eppure questo l'ho sentito dire in Parlamento perché in questo periodo in questi giorni che sono un po' influenzata sto davanti alla televisione più spesso di quanto e ho sentito delle interrogazioni parlamentari è il ministro per l'ambiente che ha risposto questa cosa a una domanda di una una transizione per la fusione che adesso insomma se ne parla è dietro l'angolo io vedo un'ignoranza spaventosa una superficialità spaventosa si parla di questi temi che sono fondamentali ma non per non solo per la bellezza e per la vita ma per la perché il mondo possa continuare ad esistere per come l'abbiamo conosciuto perlomeno con una superficialità incredibile tu non hai questa impressione? si condivido condivido in pieno penso che tra l'altro gli attuali nostri appunto governanti non siano proprio minimamente all'altezza anche proprio nelle singole figure di affrontare dal problema appunto di questa invasione che avremo dei rifugiati ambientali che veramente è una è una prospettiva che dobbiamo assolutamente tenere in grande considerazione fino appunto a tutte quelle scelte ahimè che non tengono minimamente conto ma neppure dei vincoli che ci siamo assunti nelle conferenze internazionali perché noi quando siamo andati all'accordo di Parigi dico noi come stato italiano o quando abbiamo partecipato alla conferenza soprattutto anche quella di Glasgow perché Parigi non era vincolante abbiamo aderito ma non era vincolante ma a Glasgow le decisioni e gli impegni che abbiamo assunto erano impegni vincolanti ma io domando ma li hanno letti li conoscono gli impegni che ci siamo assunti a livello internazionale ecco questa è la mia perplessità purtroppo sono assolutamente d'accordo con te Marit cioè non 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 mi sembra che ci siano le condizioni per capire la gravità della situazione io quanto sento persone come Luca Mercalli come ma anche tanti altri esperti che abbiamo sentito nelle nostre anche conferenze non io sono molto sono molto pessimista sulla capacità diciamo della politica di dare delle risposte anche perché vedo che quando qualcuno poi si impegna diciamo che tendenzialmente tendono a fare in modo che tu te ne vada o comunque che non partecipi più insomma perché è ovvio che tu devi rompere degli schemi e quindi rompendo questi schemi dai molto fastidio insomma e quindi anche questo è un elemento che non va non va sottovalutato speriamo in coloro che sappiamo che sono consapevoli di questi problemi e che possono portare magari nel Parlamento magari appunto a livello di Europa possono portare una prospettiva il problema è che questo va fatto a tutti i livelli cioè da livello a qualsiasi livello che per me sono tutti importanti cioè da livello locale a livello internazionale sono tutti importantissimi per le sfide energetiche e climatiche che ci troviamo ad affrontare quindi non lo so noi facciamo la nostra parte appunto attraverso anche l'educazione e l'informazione e questo è molto comunque non è poco però mettendo a disposizione eh mi piacerebbe sentire Gianfranco e Federico Valerio cosa dicono qual è la loro ah vabbè cosa posso dire parlando dei dei siti inquinati i siti i sin i siti di interesse nazionale devo dire che è uscito proprio pochi giorni fa sulla rivista epidemiologia e prevenzione il sesto rapporto sentieri che è pubblicato dall'Istituto Superiore di Sanità che è uno studio epidemiologico sugli abitanti di questi siti e io sono andato a vedere quello più vicino a noi di Genova che è quello della Stopani di Cogoleto dove c'era l'allavorazione del cromo esavalente che secondo la IARC è un cancerogeno sicuro e da questo studio risulta che c'è un eccesso di tumori al fegato tumori allo stomaco e nella fascia di età tra 0 e 29 anni un aumento di linfomino a Notchkin nei comuni di Cogoleto e di Arenzano quindi dove c'è la Stopani e non c'era soltanto la fabbrica all'operazione del cromo ma anche una discarica di rifiuti industriali per quanto riguarda la Stopani è stata operata che è stata chiusa quasi 20 anni fa quindi non è stata chiusa ieri è stata fatta soltanto una messa in sicurezza per cui se dovesse arrivare una grossa alluvione non dovrebbero esserci grossi danni però non è stata praticamente neanche iniziata la bonifica cioè il cromo esavalente che c'era prima è sempre ancora lì anche perché poi non si sa dove metterlo dove trasportarlo come trattarlo eccetera ed questo è un po' il problema di tutti i siti di interesse nazionale parlando della Stopani mi viene in mente che quando sono stato assunto in oncologia nel 1972 la prima cosa che mi ha fatto fare il mio capo il professor Santi mi ha mandato a parlare con gli operai della Stopani proprio per parlare del problema del cromo che non era soltanto cancerogeno ma causava perforazione del setto nasale eccetera tra i lavoratori io sono arrivato lì abbastanza giovane pieno di entusiasmo e credevo di essere accolto non so come dire a braccia aperte pensavo adesso arriva un medico che nella sua cultura nella sua grande generosità va a interessarsi della salute di questi poveri operai chissà come mi festeggeranno diranno che bello che bravo sei venuto a trovarci in realtà sono stato accolto da un gelo tremendo assolutamente difficile da accettare e da come dire sopportare e io soltanto poi dopo ho capito che questi operai con me e con tutti minimizzavano i problemi di salute che avevano per la paura che venisse chiusa la fabbrica per la paura di perdere il posto di lavoro quindi anche con me che pure era andato lì per dirgli che problemi di salute avete noi dell'istituto di oncologia vogliamo darvi una mano vogliamo denunciare questi assolutamente mi dicevano no no ma non è poi così grave stiamo abbastanza bene e mi vedevano più come un nemico che come un loro alleato quindi questo è un problema quello del ricatto occupazionale è un problema che viviamo ancora oggi pensiamo a Taranto all'Ilva in questo momento il nostro governo lo vede come una scelta strategica e ha fatto un decreto proprio per prorocare l'Ilva di Taranto e così via no quindi è una storia che dice dal 72 sono passati 50 anni però non è cambiato niente sotto il punto termino questa lunga chiacchierata per parlare della salute e della vita quindi secondo me quando parliamo di bellezza ovviamente è un valore però se parliamo di salute e di vita secondo me è ancora un valore superiore io penso che a volte noi in medicina siamo costretti d'accordo con il paziente o la paziente ovviamente quindi con il suo consenso informato eccetera però a volte siamo costretti a fare degli interventi anche mutilanti dalla mammella all'asportazione di un arto superiore inferiore cioè delle cose che non solo compromettono la funzionalità dell'organismo ma arrecano anche dei danni alla sua bellezza però credo che sia giusto se il paziente è d'accordo rinunciare alla bellezza per la salute e per la vita quindi questo mi viene in mente questa riflessione per la polemica chiamiamola così tra Italia Nostra e Lega Ambiente io credo che se davvero è in ballo e io ne sono convinto la sopravvivenza dell'uomo sul pianeta credo che dobbiamo cercare di essere come dire intelligenti mi verrebbe da dire cioè stabilire qual è la nostra priorità io credo che l'idroelettrico con la siccità che ormai abbiamo conosciuto purtroppo sia una fonte rinnovabile sempre meno importante le paleoliche sono davvero impattanti però credo che davvero il fotovoltaico se vogliamo davvero passare alle rinnovabili debba essere messo su tutti i tetti su tutti i capannoni su tutto quello che è possibile se è possibile cercheremo di salvaguardare i terreni per l'agricoltura però io penso che dobbiamo veramente fare un grosso sforzo perché se no continueremo a avere un mondo con tutti i danni delle energie fossili visto che Penuccia mi ha coinvolto adesso non so se riesco a farmi vedere comunque no dicevo intanto questo ricordo di Gianfranco in qualche modo è condiviso perché abbiamo lavorato insieme nello stesso equistituto io come chimico e lui come medico la mia esperienza con l'ambiente del lavoro non è così diciamo negativa come la sua perché ecco cosa è successo però in quegli anni da una parte avevamo una regione amministrata dalla sinistra perché poi bisogna dirlo che aveva lanciato un programma diciamo così in cui all'interno anche del clima che si viveva in quegli anni appunto gli anni 70 c'era questa legge regionale a tutela della salute e degli ambiti di lavoro dove appunto il nostro istituto era stato coinvolto direttamente e quindi abbiamo avuto questo rapporto diciamo diretto con molte fabbriche pericolose appunto anche la Stopani ma non solo lei c'era insomma c'era di tutto poi in realtà a distanza di tutti questi anni il mio rapporto con la classe operaia diciamo pure così non è stata così negativa anche perché come dire io andavo a portare informazioni e andare anche a misurare in qualche modo laddove era possibile la qualità dell'aria dell'ambiente dove loro vivevano per poter portare dei miglioramenti insomma e quindi come dire ho trovato anche io parlavo per esempio della Sanac che è un'altra azienda che immagino che Gianfranco conosca pericolosa ritrattava la silice quindi quante problemi di silicosi insomma di malattie professionali molto pesanti dove peraltro si fecero anche gli interventi di risanamento e quindi qualche miglioramento c'è stato quindi da una parte mentre tu parlavi io come dire in questo momento sono preso da un forte scoramento perché come dire io vedo quello che appunto la nostra classe politica ma non solo la nostra ovviamente non vede del fatto che si stiamo avvicinando sempre più pericolosamente al momento del collasso e il collasso è come se siamo anche parlati nelle nostre conversazioni con Bardi ma è che lui di cui lui parla molto è il momento in cui è un crollo improvviso e il crollo improvviso che noi stiamo vivendo può essere il problema della seccità giorni fa ho letto un articolo in cui appunto studiando come dire dei fossi dei vegetali degli arberi diciamo così che emergevano da alcuni scavi è emerso come il fatto che la civiltà ittita che non so se tutti lo conoscono insomma era questa civiltà che grande civiltà che si contrapponeva a quella egiziana quindi siamo a quei tempi lì è sparita improvvisamente e non si sapeva bene perché questo studio avrebbe valutato che ci sono state in quella zona tre anni di seccità consecutiva e che nonostante come dire anche loro avessero come dire attivato delle forme di resilienza come diciamo oggi questi tre anni di seccità di fatto ha impedito che il raccolto potesse permettere la sopravvivenza dell'intera comunità e quindi il fallimento il crollo di questa di questa di questa società di questa civiltà ecco noi andiamo per il secondo anno di siccità vediamo cosa succederà e la cosa grave è che questo questo fenomeno non è un fenomeno locale non riguarda una regione è un problema che come state vedere sta riguardando l'intero l'intero globo terraquio allora riusciremo come dire a far fronte appunto a un crollo di questo genere che può venire da un giorno all'altro senza che ce ne accorgiamo di qui la mia come dire pessimismo perché poi anche vedendo la storia di Pinuccia insomma di tanti altri come noi come Pinuccia come Gianfranco insomma di gente che è sbattuto per 30-40 anni portando avanti tutta una serie di idee è presa anche in giro snobbata che penso che la mia carriera all'interno dell'Istron è che è stata come dire le mie idee ambientaliste che hanno sicuramente frenato di avere perlomeno un servizio molto più importante di quanto di quanto quello sono riuscito poi in qualche modo a gestire a tenere in piedi ma questo va a vero non è un problema personale quello che vedo ecco da una parte questo è l'aspetto negativo da l'altra parte vedo che le nostre idee stanno andando avanti però purtroppo come si diceva ha in mano una classe politica che non capisce cioè proprio non ci acchiappa non ci arriva e sta facendo le cose contrarie come dire trovare ostilità sulle scelte che è quella di migliorare il patrimonio edilizio con migliorando l'isolamento termico e non capire il vantaggio di chi ci sta dentro e non solo diciamo delle onidride carboniche che risperdiviamo da quanto sono le tariffe saranno più più basse opporsi al discorso del passaggio dell'auto a benzina comunque a combustione interna non tanto un'auto elettrica che anche lì sarà un'altra fesseria insomma il modello diciamo di crescita continua anche in questo modo cambi le modalità dipinge di verde le macchine le macchine elettriche e poi ti ritrovi imbottigliato con tante macchine elettriche ferme nelle strade che sono assolutamente riempite di queste macchine se non fai altre scelte scelte che si fanno con difficoltà quindi diciamo questi sono questi aspetti diciamo da una parte negativi e positivi la speranza quale ecco i giovani saranno effettivamente capaci di cambiare le cose vedo questa difficoltà cioè noi negli anni 70 i ragazzi della nostra età sono scesi in piazza io non ero tra quelli ma insomma per mia per mia proformazione i chimici erano più tranquilli diciamola così in quel periodo all'università saranno in grado di scendere ecco io penso che quando ci staremo di fronte veramente a un momento critico dove tutti quanti capiranno che siamo veramente di fronte al rischio di una grande catastrofe può darsi che ci siamo la capiamo che bisognerà cambiare strada se ce la faremo non lo so sinceramente molto sono molto interessanti ma mi piacerebbe sentire anche Maria Rosa Inzo che il cui impegno Maria Rosa sulla mobilità ma anche sui rifiuti lei che ha fatto quella grossa ricerca buongiorno buonasera a tutti ormai eh sì beh ormai piaceva che raccontassi quella cosa che hai tradotto per i tuoi studenti eh quello sui rifiuti elettrici elettronici ci pensavo quando quando hai parlato nella tua bellissima relazione complimenti perché è stata veramente molto interessante però diciamo che mi ha buttato un po' giù il morale Federico Valerio perché in realtà condivido quello che quello che ha detto lui e e quindi è vero vorrei aggiungere però una cosa quando Federico Valerio ha detto eh per incapacità forse i nostri politici non riescono a vedere a capire la gravità della situazione secondo me non lo so io ho dei dubbi mi chiedo se è solo per incapacità o è anche perché c'è dietro una rete economica di di come posso dire di sollecitazioni economiche che li portano a fare certe scelte perché ad esempio se pensi al quaderno che abbiamo fatto come ecostituto sulle comunità energetiche rinnovabili quando si parla di usare i terreni per il fotovoltaico in realtà forse usando le coperture degli edifici dove è possibile quelle esposte a sud abbiamo visto che si potrebbe portare a casa una l'energia che serve però in realtà c'è il discorso che magari a qualcuno conviene mettere il fotovoltaico sui terreni improduttivi e quindi non è solo una questione di non capire le cose è anche una questione di non volerle vedere di interessi che sono in gioco che forse noi non riusciamo a controllare ecco in realtà sì il discorso della ricerca ma anche il discorso sui disastri ma anche il discorso sulla mobilità è tanto che lo dico io bravo Federico bisogna dirlo perché qua parlano della mobilità elettrica come se risolvesse il problema ma non non lo risolve poi è un'occasione persa perché l'occasione era quella di usare questa situazione per individuare delle modalità più sostenibili di spostarsi doveva essere un aiuto a far capire alle persone che dove non è necessario la macchina è meglio lasciarla a casa invece stanno lavorando ma anche lì è sempre un discorso economico per dire non c'è più la macchina il motore endotermico al posto di quello però usa quello elettrico e tutto prosegue come prima cioè credo che sia così ecco vedo che c'è una mano al Federica Madonna sì allora io volevo innanzitutto complimentarmi per la bellissima relazione mi veniva in mente una considerazione che volevo condividere con lei e con voi anche per sapere che cosa ne pensate soprattutto vedendo le immagini e quindi tutto il discorso che lei ha condotto sulle ferite che noi procuriamo all'ambiente mi veniva in mente il discorso di Stephen Tullman cioè la morte dello spettatore l'immagine secondo cui finalmente l'uomo si sarebbe reso conto che non è più uno spettatore all'interno del pianeta che vede semplicemente quel che accade ma si ritrova dentro come parte attiva e quindi qui tutto il discorso da un punto di vista etico dell'ecologia l'importanza dell'oico eccetera eccetera a me pare però che se da una parte siamo divenuti consapevoli diciamo così del rapporto che noi dobbiamo instaurare sostenibile di rispetto della natura in senso lato quindi mi rivolgo soprattutto a quelle ferite che noi procuriamo deliberatamente non lo so all'ambiente dall'altra però mi sembra che quello spettatore in realtà non sia poi così tanto consapevole del fatto che lui non è più uno spettatore cioè non mi pare che sia oramai divenuto consapevole che lui si trovi all'interno del teatro e che sia parte attiva nello scenario teatrale ma che sia nella commedia e nella rappresentazione ma che da una parte voglia semplicemente comodamente rimanere seduto dall'altra parte per assistere a ciò che accade tanto il problema dell'ambiente qualcuno lo risolverà tanto al momento non mi tange e quindi mi sembra tanto una possibilità di comodo su cui ci si sia adagiati nonostante però ci siamo resi tutti consapevoli e abbiamo oramai le controprove del fatto che il disastro ambientale è imminente quindi questa metafora dello spettatore o meglio della morte dello spettatore a me pare più ahimè e purtroppo lo dico veramente con grande rammarico mi sembra più una presa adatto ma non metabolizzata fino in fondo e di conseguenza uno spettatore che anziché essere parte attiva e quindi avviare veramente anche con degli sforzi così come si diceva prima il rispetto dell'ambiente la rinascita della natura di una vita ecosostenibile dall'altra mi pare che si trovi dall'altra parte proprio con una questione economica politica non lo so però fatto sta che da un punto di vista etico mi sembra di vedere questo e quindi volevo sapere ecco lei e voi che cosa ne pensate e poi volevo fare una domanda forse fantascientifica non lo so però non mi metta a due il dottor Valerio Federico Valerio ma chiedo ma non è possibile costruire scusi anche le parole non adatte ma i miei di chimica povero papà non sono riuscita ad apprendere la sua arte non è possibile costruire tra virgolette in laboratorio una molecola d'acqua cioè noi sappiamo che sono due molecole di idrogeno H2O e una di ossigeno non è possibile in vitro non lo so costruirle in qualche modo è una curiosità che mi è venuta ecco sentendo un po' tutto il discorso ma da che danno oramai si fa legato a purtroppo alla siccità ai cambiamenti climatici ecco quindi una curiosità grazie c'è un problema ma guarda no l'acqua si forma si forma tutte le volte che c'è una combustione insomma l'idrogeno e l'ossigeno reagiscono si forma acqua quindi non è quello il problema il problema è che poi ci venga giù e ce l'abbiamo a nostra disposizione lì le soluzioni ci sono però anche lì bisogna costruirle in grande anticipo tanto per dirne una l'acqua di depurazione i nostri depuratori perché non è tutto c'è questo aspetto questo mio negativismo che c'era prima poi in realtà è anche mitigato dal fatto che comunque dei miglioramenti si sono stati non diciamo della misura sufficiente rispetto ai bravi problemi che stanno ingigandendo l'anno all'altro dicevo tutti i nostri depuratori che sono nati appunto in quegli anni vabbè non voglio adesso farvi gli aneddoti di che tipo di mare avevamo qui davanti a Genova ma questi depuratori stanno producendo acqua depurata a un livello tale da poter teoricamente essere anche già potabile il problema è che viene buttato tutto a mare ora il nostro sindaco proprio oggi se ne esce questo qui lui che con i soldi di altrui siamo tutti bravi avendo i soldi in tasca a fare le grandi opere sto parlando del ponte Borandi che era ricostruito si era lanciato con l'idea che noi faremo i dissalatori a Genova e con questi dissalatori non so bene come manderemo acqua potabile nelle zone dell'introterra della Pianura Padana setati magari attraverso qualche tav altre cose altre fatti è una follia è proprio una follia perché non ha la minima idea del consumo energetico che ci vuole per fare questa cosa quando come ho detto prima abbiamo già questa produzione di acqua sostanzialmente potabile che deriva dalla depurazione delle nostre acque fognarie è un ciclo della materia anche quello che funziona ovviamente bisogna mettersi nell'ottica di quello che hanno fatto che ne so appunto gli israeliani dove questo problema della carenza d'acqua ce l'avevano e si sono inventati costruendo nel tempo e nei decenni un sistema di anche questo comunque di dissalazione ma ovviamente non è questa la risposta più principale quindi insomma la ricerca ci vuole ma come dire all'interno di competenze che siano inquadrate in modo corretto e qui non ci siamo perché poi è stato detto gli interessi delle lobby pesano di più rispetto alle scelte noi rischiamo di perderci tutti i vantaggi del PNRR perché ci sono buttati a precipizio sul fatto che ci sono 200 e passa miliardi di disposizioni per fare quello che vogliono fare e che danno guadagni vedo che c'è anche Enzo quindi prima di rispondere sentirei anche Enzo se riuscirò mai a rispondere perché non sono domande molto impegnate no ma io volevo fare l'avevo scritto in chat a parte che io sono nella categoria mentre voi siete verdi dalla nascita io sono nella categoria degli ex inquinatori perché ho lavorato in un saldo quindi nelle centrali per più di 30 anni 35 e quindi posso essere catalogato in quella categoria comunque volevo dire che il ricatto lavoro ambiente continua tuttora non sono così ottimista da un certo punto di vista come Federico che in passato dice che ha incontrato persone che erano diciamo lavoratori comprensivi io ho visto a parte appunto Bucci che tutte le volte che si parla di fare qualcosa a favore del diciamo dell'ambiente contro l'inquinamento del traffico marittimo tira sempre fuori il discorso lavoro però mi aveva colpito molto che anche in alcune trasmissioni mi sono trovato di fronte a lavoratori portuali che erano infuriati quando ho fatto certi discorsi non erano per nulla così invogliati in qualche modo a sentire certe certe proposte appunto credo che anche perché qui a Genova purtroppo di lavoro non ce n'è molto il terreno sia quello purtroppo scusate non è che sia un grande intervento grazie comunque a Pinuccia perché ha fatto un escursus cioè ha fatto una piccola enciclopedia diciamo di quelle che sono le problematiche purtroppo ambientali ma è molto interessante questa riflessione che Federica poneva sulla morte dello spettatore cioè molto molto interessante secondo me a volte mi pongo però il problema appunto da un lato anche della consapevolezza delle giovani generazioni perché anche stamattina abbiamo avuto questo incontro con un'ottantina di studentesse e studenti ma soprattutto donne c'erano tante ragazze che appunto si erano anche molto preparate sulle questioni ambientali e però mi ha colpito di loro in fondo cioè la mancanza di che è anche una colpa nostra credo di senso un po' della storia cioè noi non abbiamo la memoria di quello che succede cioè non impariamo dalla storia non impariamo da quello che è questa è una cosa gravissima perché ogni volta e forse questo anche il ruolo dovrebbe essere un ruolo importantissimo della scuola quello di avere la capacità di costruire questa identità di memoria perché è la memoria che poi consolida anche credo sia la capacità di risposta autentica vera sia anche la capacità di capire quello che è sbagliato e che è stato sbagliato nel tempo e quello invece che può diventare un elemento di superamento e poi a me viene sempre in mente Antigone perché io dico sempre ogni tanto dovremmo andarci a rileggere questi grandi problemi perché credo che dietro a tutto questo c'è anche il grande problema del potere quello che diceva anche un po' Maria Rosa prima cioè il problema del potere è un problema appunto che ci trasciniamo dalle origini della riflessione della riflessione ed è un problema serissimo ampiamente sottovalutato cioè nel senso di non indagato nelle sue dimensioni anche più profonde insomma e quindi però mi colpisce molto questo tra l'altro mi è venuto in mente ma è solo per affinità di titolo il libro che mi aveva colpito all'epoca quello di Guy Debord la società dello spettacolo dove in realtà appunto soprattutto con l'avvento di determinate tecnologie il ruolo appunto delle il ruolo di ognuno di noi diventa molto impoverito insomma in sostanza e anche dominato da questa grande prospettiva di potere che decide tutto e io la cosa che su cui sto riflettendo negli ultimi giorni è proprio la responsabilità ecco un altro libro che mi è piaciuto molto è quello appunto la nostra responsabilità per la natura secondo me la nostra generazione ha delle grosse responsabilità cioè nonostante tutto quello che noi abbiamo cercato di fare però evidentemente dobbiamo riflettere di più su quello che abbiamo fatto e su come lo abbiamo fatto e sul perché l'esito non sia stato quello che noi tutto sommato ci attendevamo come mai siamo sempre un elemento di minoranza diciamo come prospettiva anche culturale perché poi questo tema dell'acqua invece è un tema affascinante devo dire con l'architetto Biondi che anche lui è di Ecoistituto quando eravamo a Roma c'era stata la grande siccità del lago di Bracciano che non dava più acqua ai romani che era un problema enorme perché a Roma ci sono 3 milioni di abitanti quindi quando il lago di Bracciano comincia a scendere tutti a Roma si agitano perché il lago di Bracciano è fondamentale e allora con Vitaliano siccome avevamo delle aree verdi che dovevamo appunto mantenere abbiamo deciso di fare quello che facevano in Africa siamo andati a vedere un po' le esperienze anche poi suggerite anche sempre dalla professoressa Ronzoni dalla Maria Rosa e così avevamo progettato dei condensatori atmosferici dei pozzi d'aria degli stagni di rugiada per quantomeno fare da un lato risparmio idrico dall'altro però recuperare l'acqua che si può recuperare perché parliamo proprio di 10.000 litri di acqua al giorno che si possono recuperare con questi sistemi tecnologici alcuni realizzati peraltro presentati anche all'Expo di Milano in Svizzera cioè poi Maria Rosa è molto più esperta di me come ingegnere forse anche gli ingegneri sono più bravi su questo ecco però ci sono delle soluzioni che si possono adottare qui si incrocia sempre la dimensione della soluzione diciamo localizzata con le grandi prospettive che sono certamente le più difficili da mettere in campo e ribadisco oggi a mio avviso la grande crisi da un lato appunto di questo anche modello un po' di neocapitalismo che però ci ha portato a questa situazione andrebbe forse davvero rianalizzato e la domanda è siamo ancora in tempo io sto facendo uno studio un po' approfondito sull'economia circolare perché è il tema che mi interessa di più sto leggendo sto approfondendo proprio questa tematica per capire se anche ad esempio nel settore dei rifiuti la vera risposta è quella dell'economia circolare rispetto al problema appunto del recupero di materia e delle gravi cause che è una scorretta gestione dei nostri appunto immensi e spaventosi rifiuti perché uno si rende conto di che cosa sono i rifiuti quando va a vedere una discarica quando uno va a vedere la più grossa discarica d'Europa che è quella di Malagrotta a Roma allora si rende conto di cosa vuol dire appunto milioni di tonnellate di rifiuti e che cosa significa per i territori avere milioni di tonnellate di rifiuti che sono i nostri rifiuti è drammatico ecco però le risposte ci sono sappiamo che si possono realizzare sappiamo che è difficile non è che sono così entusiasta della nostra capacità di avere concluso qualcosa però insomma quantomeno ecco se riusciamo almeno a trasferire anche alle nuove generazioni delle prospettive con la consapevolezza però che non siamo più negli anni 80 che se allora potevamo avere davanti 40 anni adesso ne abbiamo molti 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 meno rispetto al tema del collasso che diceva Federico Valerio che anche a me spaventa perché mi spaventa moltissimo per non parlare del mare perché poi mi viene in mente anche tutto il tema del mare delle plastiche nel mare avevamo studiato un progetto appunto con la fondazione custodi ricordi Maria Rosa proprio sul tema delle plastiche in mare che stanno distruggendo il mare ecco quindi problemi enormi vedo due mani io volevo solo hai parlato di Malagrotta mi è venuto in mente che parlando di Malagrotta parlando di bellezza e ambiente per chi non è di Roma forse non è così chiaro Castel di Guido è attaccato a Malagrotta cioè quello che il danno che procura al paesaggio all'ambiente è Malagrotta al di là di quello che è che lo procurerebbe ovunque ma lì è veramente una cosa uno sfregio proprio credo che per chi non è romano non sia così immediato però se pensi a quello che è Castel di Guido ma la grotta è lì di fianco insomma e poi volevo aggiungere se posso un secondo quando hai parlato della consapevolezza delle giovani generazioni mi è venuto in mente quando tu ci hai regalato quel bellissimo collegamento dall'ultima COP ti sei collegata con De Maio e con i miei studenti in classe che erano studenti dell'ultimo anno di ingegneria e io vi avevo posto la domanda del grado e mezzo di aumento di temperatura che avrebbe messo a rischio l'uomo e ti ricordi e quando c'è stata la risposta Pinuccia ha risposto Massimo ha risposto quando abbiamo chiuso il collegamento mi sono trovato una classe di giovani persone seri tutti io pensavo fossero tutti caricati ci eravamo collegati avevamo vissuto questo momento così interessante ho detto ma perché siete così mi hanno detto ma professoressa ma rischiamo l'estinzione cioè loro non hanno capito pensano che il cambiamento climatico voglia dire che piove un po' di più cioè non hanno capito secondo me non siamo ancora riusciti a trasmettere la percezione della gravità della situazione che stiamo vivendo e di come ne veniamo fuori col contributo di tutti questa cosa qua lì è stata ti ricordi che te l'avevo detto assolutamente sì 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 mi ricordo anche che li avevamo fatto vedere questo perché a Glasgow c'erano queste immagini riprodotte simulate delle condizioni appunto climatiche estreme attraverso dei sistemi tecnologici che erano veramente terrificanti perché tu entravi dentro questi spazi e capivi che cosa significa il cambiamento climatico e gli avevamo fatta vedere facendo diciamo un'operazione grazie a Massimo di contestualizzazione insomma mi ricordo molto bene una diretta da Glasgow era molto bello però questa idea che hai detto tu c'è il contributo di tutti forse la risposta sta nella collettività proprio richiamarci un po' all'idea di collettività cioè che non può essere il contributo di ognuno ma davvero deve essere il contributo di tutti per rispondere a questi problemi Enzo ho visto la mano sto facendo il ruolo di Maria Teresa che in genere lei che è curva scusate ma non sono al massimo oggi non ti preoccupare sei influenzata sì ho una cosa di influenza che è diventata bronchite quindi ogni tanto chiudo perché mi metto a tossire e poi scusatemi figurati no volevo ancora aggiungere che quello che ha detto Federico Valerio è giustissimo perché noi come Ansaldo abbiamo fornito saldo impianti Ansaldo abbiamo fornito degli impianti di salazione e sono estremamente energivori non è che ora capisco che il sindaco sa già dove metterli perché li metterà senz'altro a San Piero d'Arena e quindi la cosa magari lo alletta particolarmente comunque questo va bene era una notazione per quanto riguarda poi invece le auto elettriche a parte effettivamente diciamo come diceva Federico Valerio che non risolve il problema di certi problemi diciamo viabilità e via dicendo c'è poi però anche l'aspetto che l'auto elettrica intanto richiede la produzione ulteriore di energia vabbè prima c'era il combustibile adesso dobbiamo comunque abbiamo una richiesta semmai di fotovoltaico molto ma molto più elevata difatti mentre adesso per i vari problemi abbiamo circa 110 gigawatt installati si pensa già tra una cosa e l'altra di arrivare anche a dover installare 300 di gigawatt dai 200 ai 300 proprio per i nuovi usi e poi comunque ci sono problemi di sicurezza con le auto elettriche perché prendono fuoco con una certa facilità e poi è difficile spegnerti non è che sia tanto semplice adesso non mi ricordo dove ma per far spegnere un incendio su un autobus elettrico hanno dovuto praticamente privarlo di ossigeno e gli hanno messo una capottatura perché non riuscivano proprio e poi ci sono anche altre problematiche perché nei paesi del nord ad esempio le auto elettriche a volte autobus elettrici sotto una certa temperatura non funzionano perché c'è niente a fare non quindi sente le temperature alte e le temperature basse quindi non è che sia così semplice in più come segnalavano alcuni studiosi c'è anche le problematiche per l'autista guidatore degli altri campi sembrerebbero così non tanto inocchi beh allora dovremmo fare leggere il libro di Luca Gianotti l'arte del camminare e riprendere le riflessioni del reverendo Thoreau che è stato il mio primo studio di ecologia quello appunto di Thoreau che era molto interessante bellissimo come ci ricorda sempre appunto la professoressa Battaglia e e che comunque appunto nel camminare consentiva anche di riscoprire la bellezza la bellezza appunto della natura che ci circonda quindi oltre a mantenerci in forma come dice sempre anche se non sbaglio Gianfranco bene cosa dici Maria Teresa se non ci sono altri interventi io direi che direi che sono le sette e forse un po' di persone hanno iniziato ad andare via esatto forse è opportuno chiudere chiudere perfetto con la desolazione nel cuore che ci ha lasciato l'intervento di Federico e anche quello di in realtà sono ottimista e anche quello di Maria Rosa perché quello che hanno capito i tuoi studenti in quell'occasione ancora i nostri politici lo devono capire ed è tragico grazie ho questa impressione che non si sia capita ancora la gravità della cosa esatto penso che sia sì va bene vorrà dire che continueremo come tambur battente a tambur battente a proseguire nei nostri esatto noi siamo comunque Maria Teresa c'è Maria Rosa che ha in canna la la produzione di un quaderno come per abbiamo fatto per le comunità energetiche sul trasporti giusto? quindi avremo la possibilità di discutere di molti di questi problemi bene speriamo non è sicuro è una speranza no 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 ci riusciremo cioè ci riusciranno io vi confermo che la conferenza è stata registrata e trovate la registrazione sul canale YouTube di Ecoistituto che è raggiungibile dal sito Ecoistituto regge in fondo nell'ultima proprio riga del sito c'è il grosso logo di YouTube cliccando lì si arriva a tutte le conferenze e compresa questa di oggi posso posso dire rapidamente anzitutto ringraziare tutti e complimentarmi e coloro che sono in ultima contavo di non parlare però una riflessione schematica non so se convenga riflettere molto sul fatto che i politici non capiscono neanche che non vogliono capire ma giustamente come è stato detto che in molti casi non possono capire la gestione del potere ahimè alla quale ho dedicato una buona parte delle mie ricerche è una gestione molto composita per cui come dire l'emergenza della politica quotidiana lascia sempre spazi minori per quelle che sembrano delle volutà cioè delle scelte non imposte non segnate da binari consolidati e ahimè temo che una buona parte della drammaticità delle riflessioni di questa sera rientri una buona parte ovviamente non tutto perché sia troppo evidente e si smentisce da sé questo il fatto che per l'appunto come un tempo si diceva ce lo chiede l'Europa adesso ce lo chiede una instabilità e una necessità di far fronte a delle falle che non si possono chiudere e che diventano sempre più grossi di carattere economico naturalmente è proprio per questo che hanno capito la gravità che hanno capito gli studenti di Maria Rosa rimanendo muti la drammaticità gli studenti di Maria Rosa lo capiscono e sono portati a capirlo anche lì però ecco attenzione la riflessione che i giovani non percepiscono lo spessore storico lo percepiscono sempre meno da un'idea di quanto le nuove generazioni pur infervorandosi per queste problematiche sono portate a viverle in una dimensione molto emotiva molto partecipata molto estremista meno riflessiva ecco il politico primo deve salvare la propria posizione il gruppo di riferimento e poi fare delle concessioni e quindi è molto più facile per lui far finta di non capire e salvarsi così l'anima che non lasciarsi coinvolgere su strade che ahimè credo che qui dovremmo cominciare qui dovremmo cominciare un altro dibattito perché non sono molto d'accordo molto interessante questa prospettiva insomma da approfondire diciamo però se non ti rendi conto che nel giro di 30 anni c'è il precipizio capisci hai poco da salvare la poltrona lo schieramento una cosa è un giro di meno di 30 anni la drammatica scusa la drammaticità del potere per cui lo sguardo è sempre breve ahimè da sempre e sin quando sarà possibile continuerà ad essere ahimè per fortuna non abbiamo solo persone irresponsabili sino a questo punto ma diciamo che la grande o comunque una consistente attività politica una consistente parte di coloro che esercitano attività politica beh se non possono se non sono costretti beh queste riflessioni non le faranno facilmente certo è facile dire o meglio è facile noi possiamo tranquillamente dire ma come possono non vedere queste cose perché non si fanno carico perché non hanno letto sin in fondo gli impegni che ci siamo presi a livello europeo perché potrebbero andare avanti ancora molto a lungo ma ma perché la loro dimensione è una dimensione politica e di potere fondamentalmente che ahimè qui non voglio fare il mio mestiere di analista di queste problematiche ma che è per certi aspetti drammatica e che porta pessimismo ulteriore a quel pessimismo che già abbiamo ascoltato e che non ci deve rovinare ulteriormente la serata però un altro elemento di pessimismo attenzione riflessione sui giovani e sulla loro capacità o incapacità di percepire lo spessore dei problemi io mi confronto molto con i giovani amo molto dialogare laddove mi è possibile e vi posso assicurare che è sempre più difficile intervengono realtà quella più scontata banale a cui si dice si fa riferimento sempre e il web e i social vabbè ma senti avete visto gli ultimi dati sugli i cocomori in Italia su questi giovani straisolati percentuali che sono arrivate al 2% e lo superano cioè lì siamo al punto estremo al punto estremo ma questi sono la punta di diamante di qualcosa che è molto più presente stiamo parlando di percentuali che superano il 20% di giovani che percepiscono o che si informano attraverso strumenti che vanno da TikTok a altri altre applicazioni o piattaforme di questo genere che non permettono loro di avere una dimensione di percezione e di analisi tale di comprendere i problemi che ahimè questa sera sono emersi in tutta la loro drammaticità magari a viverli per qualche attimo magari a entusiasmarsi ma non andare molto più lontano scusate ma non vorrei aggiungere troppo pessimismo al già marcato pessimismo che è emerso e grazie a tutti grazie a tutti chiudiamo qui